Non solo il 2 aprile ma oggi abbiamo il piacere di rincontrare Rosy Pennino proprio perché si lavora sulla prossima tappa che vedrà ancora una volta Parlautismo all'opera per parlare dei diritti dei nostri giovani e meno giovani ma stiamo anticipando perché Rosy una ne pensa e centone fa stiamo anticipando la Notte Blu. Il prossimo 22 dicembre a partire dalle ore 10 fino alle ore 15 nella straordinaria struttura del Palaureto di Palermo. Hai detto bene prove tecniche del 2 aprile di un progetto comune di un desiderio comune che abbiamo con Francesco Panasci quest'anno lo vorremmo trasformare in una straordinaria Notte Blu e allora abbiamo pensato di mettere insieme per questo Natale la parola solidarietà con la parola arte, danza, musica per unire in un patto trasversale di solidarietà tutte le scuole di danza che hanno voluto aderire attorno al maestro Giuseppe Di Michele e tutte le associazioni che si occupano a vario titolo di autismo tutti insieme per un straordinario Natale di solidarietà solidarietà di un patto importante che vedrà all'interno del Palaureto diverse esibizioni di scuole di danza tra cui scuole che fanno partecipare alle loro attività e che si occupano di far danzare ragazzi speciali. è una bellissima fiera in cui ogni associazione che ha aderito promuoverà se stessa e l'aiuto, devo dire, con il cuore dei maestri panificatori dello sfincione Slow Food di Bagheria che metteranno a disposizione il loro prodotto il cui ricavato andrà assolutamente in beneficenza alle associazioni che sviluppano progetti e servizi attorno all'autismo e il consorzio, e voglio ringraziare il suo presidente il consorzio IGP del cioccolato di Modica che metterà a disposizione proprio l'eccellenza di questa cioccolata tutta siciliana l'iniziativa è patrocinata dall'Assemblea regionale siciliana alle 11.30 è previsto il saluto del presidente Gianfranco Miciche che premierà proprio la scuola di danza di ragazzine e bimbe con la sindrome di Down che si esibiranno quel giorno, in quel momento per noi. Certo, quello di Rosy Pennino è un format ormai quello di creare rete piuttosto che vedere all'interno del nostro Natale siciliano tante associazioni con piccoli interventi ognuno a casa propria il fatto di poter mettere in rete tutte queste associazioni per un unico progetto è una dimostrazione pratica che potrebbe diventare format anche per le istituzioni pubbliche cioè significa che lavorare tutti insieme per il raggiungimento di un obiettivo si diventa più forti, si diventa più competitivi si fa più spettacolo perché insieme si fanno grandi cose questo potrebbe essere un esempio per la nostra pubblica amministrazione è stata una valutazione fatta insieme a tutte le realtà che si occupano di autismo che hanno voluto aderire perché ogni anno diverse iniziative di solidarietà per raccogliere fondi in beneficenza vengono fatte a vario titolo singolarmente io ne partecipo e ho sempre partecipato in diversi posti e allora ho detto perché non tutti insieme fare rete perché il ricavato di questa giornata vada comunque suddiviso alle associazioni che a vario titolo realizzano progetti e interventi in ambito di autismo e lì ho detto ci devono dare una mano come si fa a Natale ci deve dare una mano chi sta meglio e allora ci sono queste scuole di danza dove vanno molti ragazzi che insieme ai loro insegnanti hanno aderito per aiutarci a contribuire in maniera fattiva e operativa a questa giornata l'ingresso al palaureto è di 5 euro ovviamente il ricavato andrà in beneficenza è una grande giornata di solidarietà e se non a Natale quando? Dicevamo di Giuseppe Di Michele eccolo qua arrivare in redazione a raccontarci un po' questa avventura con Rosi Pennino che vede coinvolte naturalmente le scuole di danza dove tu sei maestro grazie Francesco noi sono responsabili del settore danza dell'SC giorno 22 dicembre al palaureto dalle 9 alle 15 e molto probabilmente visto il grande successo Francesco faremo anche dalle 15 alle 18 quindi ci prolunghiamo fino alle ore 18 esatto noi in diverse scuole di ballo abbiamo anche ragazzi e noi siamo i ragazzi speciali il gruppo dei ragazzi speciali con la maestra Lella dove si esibiranno sono i ragazzi con sindrome down dove ci sono anche i ragazzi con autismo dove noi faremo una coreografia proprio basata sull'autismo sopra i bambini che magari si isolano rispetto ad altri e questa è una battaglia che noi stiamo facendo con il nostro punto di riferimento Rosi Pennino che per noi su sociale è il top speriamo di vederti anche ballare perché non solo fai il maestro ma ti vorremmo vedere all'opera vi lascio il punto interrogativo vedremo appuntamento il 22 dicembre al Paloreto vi aspettiamo tutti quanti e grazie a tutti